Il suo ultimo lavoro si chiama Angeli, amici e menestrelli e contiene 13 tracce. In questo album non si fa altro che parlare, cantare e suonare di magia, di incanti, di amici, di relazioni profonde. Vi presento anche la band, Alessio Alleberre, Berre, Violino, Giammaria Giambogiori, Andrea Monchio Monziari, la voce Luca Servio Bertolini, fatevi sentire. Grazie. 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 e poi fanno odio, oggi concessione a pensare prima di abbazzare e poi rimanere ancora sporche di rancure chi deve bruciare, chi deve bruciare chi deve bruciare, chi deve bruciare e poi non basta l'invidia, non basta l'invidia 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 non basta